Gaetano, meglio conosciuto come James, è nato a Napoli nel quartiere Miano. Figlio di James Smith, soldato statunitense afroamericano, e di Anna Senese, giovane ragazza napoletana, inizia giovanissimo la sua carriera di sassofonista. Nel 1961 insieme a Mario Musella e ad altri amici danno vita a Terzigno al complesso di G.G.I. Suoi Aster. Nel 1963 James e Mario incontrano Vito Russo, dando vita alla formazione dei quattro con, gruppo da questi fondato, i cui componenti sono, oltre allo stesso Russo alla voce, al pianoforte e alle chitarre e da Senese al sax. Mario Musella alla voce e al basso. Nicola Mormona alla chitarra e Ino Galluccio alla batteria. Questo complesso inciderà alcuni 45 giri per la King. L'etichetta di Aurelio Fierro. Già da allora inizia il sodalizio con Mario Musella che proseguirà con l'avventura degli showman, e successivamente con gli showman 2. Senese si distingue per il suo virtuosismo ma dove offre il meglio di sé con i Napoli Centrale, gruppo che fonda insieme all'amico Franco del Prete. L'album omonimo. Si ricorda particolarmente il brano, Pensione Floridiana. I album, Mattanza e, Qualcosa Can U More, si caratterizzano per un jazz rock dalla forte. Connotazione popolare. Album di successo. Inoltre, Zitte, Star Rivan o Mammone, del 2001. Che si avvalse di importanti collaborazioni. Come Enzo Gragnaniello, Lucio Dalla, Reitz, ha curato le musiche del film di Lodovico Gasparini No Grazie. Il caffè mi rende nervoso. 1982. Con Lello Arena e Massimo Troisi. Film in cui ha partecipato anche come attore nel ruolo di sé stesso. E cantando una canzone dal titolo Arovaie. James Senese è stato inoltre uno dei componenti del supergruppo di Pino Daniele. Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Joe Amoruso e Rino Zurzolo. Con il quale ha collaborato nei dischi di esordio. Questi grandi musicisti sono recentemente tornati a suonare insieme per l'incisione dell'album di Daniele Ricomincio da 30, pubblicato nel maggio 2008. Nel 2005 il libro è edito da Guida e intitolato J.E.S.T.O. James Senese di Carmine Aimone ne racconta il percorso di vita e artistico. Nel 2011 partecipa al film Passione di John Torturro e al successivo adattamento teatrale. Nel 2012 esce l'album Efernuto, O Tiempo, Area Live e Company. Tra il 2015 e il 2016 con i Napoli Centrale fa oltre 180 concerti in tutta Italia con qualche puntata all'estero. Sempre nel 2016 esce il nuovo album dei Napoli Centrale, O Sanghe. Ala Bianca, Warner, che vede nuovamente Franco De Prete collaborare ai testi. L'album vince la targa Tenko come miglior album in dialetto. La formazione attuale dei Napoli Centrale vede James Senese alla voce e sax. Gigi De Rienzo al basso. Ernesto Vitolo alle tastiere e Agostino Marangolo alla batteria.